Ok, ora che abbiamo imparato ad applicare la nostra displacement map a un piano normale proviamo a farlo come abbiamo visto su una struttura un po' più complessa quindi cancelliamo, selezioniamo, cancelliamo il piano e creiamo nella nostra visualizzazione tridimensionale un qualche cosa di un pochino più complesso abbiamo detto una sfera l'idea migliore non è quella di usare le sfere già fatte perché sono un po' particolari noi abbiamo bisogno di sfere che abbiano le facce tutte quadrate quindi si può partire da semplicemente un cubo e poi si può applicare ctrl 1, ctrl 2 o ctrl 3 ne facciamo sul ctrl 2 vedete che abbiamo il cubo che è diventato già una sfera cioè non è proprio una sfera ma è accettabile come semplificazione in cui tutte le facce sono comunque tutte quadrate ci sono alcuni punti di questo cubo in cui le facce sono un po' strane e in questi ci avverranno delle cose un po' particolari comunque proviamo a mappare questo cubo in modo tale da mettere gli displacement map faremo praticamente esattamente la stessa cosa di prima quindi abbiamo visto che prima andavamo in edit mode e poi facevamo l'applicazione della UV map però magari facciamo prima di andare avanti applichiamo il nostro apply in modo tale da avere tutte le facce quindi andiamo a questo punto in edit mode quindi abbiamo tutte le nostre facce carine facciamo U unwrap e facciamo reset vedete che abbiamo cioè praticamente ogni mappa viene applicata sulla nostra immagine quindi questo cubo ha già l'UV map corrispondente però abbiamo detto che vogliamo associare il modificatore che abbiamo detto che era il displacement quindi applichiamo il displacement però abbiamo anche detto quindi scusate comunque si può aggiungere anche un secondo momento cancelliamo aggiungiamo prima il subsurf perché è opportuno che questo cubo abbia un po' di vertici in più quindi andiamo a 4, 5 insomma per vedere un po' la struttura e poi ci aggiungiamo anche il modificatore displacement e nel modificatore displacement che sarebbe questo questo subsurf e questo displacement qui abbiamo detto che dobbiamo agganciarci la nostra texture quindi andiamo qua li agganciamo vedete che è già agganciata questa texture quindi andiamo nel modificatore e vediamo se riusciamo a vederlo come prima quindi dobbiamo fare così vedete che qui bisogna modificare ah, questo qui per vederlo ok, vedete che qui praticamente vedete l'effetto del modificatore quindi noi praticamente cercheremo di vedere di applicare il nostro ecco qui il trucco sta nel fatto di avere il subsurf di sopra perché prima ce l'avevamo di sotto e non si vedeva quindi vedete che qui bisogna anche capire che la strength non può essere molto forte perché se si usano delle strength molto forti si capisce di meno le subdivision qui meglio metterle un po' basse giusto per la facilità vedete che almeno all'inizio compare IVA avendo messo subsurve sopra e default viene questa schifezza ma se si riduce lo strength si ottiene vedete effettivamente quindi più lo riducete e più avete una struttura che deriva dalla struttura tridimensionale di questa parte qua restringiamo un pochino giusto per vederla un pochino meglio ecco per vederla qua ricordate che io ho fatto questo trucco solito che faccio spesso cioè sul tasto destro ho messo GLSL texture solid ho impostato il solid qua questo perché altrimenti vedete che se no si vede non si vede un granché invece così si vede texturizzato vedete che in realtà quello che sto usando sta mettendo sia la texture quella propria lì che così viene la struttura diciamo mesh quindi qui per averla migliore bisogna aumentare subdivision vedete 4, 5 e 6 allora il modo migliore sarebbe 6 perché vedete che si ottiene la struttura proprio tridimensionale che ci serve e vedete che già così abbiamo quel lavoro certosino abbastanza carino che abbiamo visto prima quindi se noi facciamo in questo momento una foto vedete che adesso qui manca un po' di cose nel senso che manca la luce quindi ce la dobbiamo costruire una luce quindi facciamo qua facciamo shift A e mettiamo una lampada EMI che illumina più o meno la nostra più o meno vediamo se ce la illumina in modo tale che venga fuori qualcosa di umano allora adesso vedete che viene la foto perché viene così semplicemente perché nel rendering abbiamo detto quindi andiamo quindi ESC così impariamo anche un po' vedete che c'è il rendering 2 quindi per aver anche nel rendering la stessa risoluzione che abbiamo nel view dobbiamo mettere 6 6 anche qua sotto quindi adesso facciamo F12 vedete che ci impiega un po' di più però abbiamo il rendering esattamente come quello che ci aspettavamo vedete che c'è praticamente questa cosa poi se vogliamo anche associare la texture questa e quindi vedere questa texture sopra possiamo aggiungere il materiale quindi il materiale adesso non c'è gli aggiungiamo un materiale e nel materiale gli mettiamo la texture questa e la texture che gli abbiamo aggiunto gli mettiamo che è fatta sulla UV e UV map cioè quella che abbiamo creato in questo modo se a questo punto facciamo la foto vediamo che il nostro oggetto vedete che ci ha anche appoggiato la texture che abbiamo visto prima e quindi diciamo fa un po' quello che ci interessa se per caso volete avere anche dei colori nella foto la trucco sta nel beh intanto possiamo mettere il colore alla nostra lampada quindi la lampada che era questa possiamo dire che invece di essere bianca la facciamo per esempio gialla poi possiamo duplicarla shift D e mettere un'altra lampada che magari invece di gialla la facciamo rossa e così abbiamo già un paio di colori in più questo è giusto per vederlo in foto insomma vedete che lo stiamo vedendo dalla parte quindi ha un bel colore diciamo dorato e almeno per questa parte in cui abbiamo visto l'applicazione delle delle della normal map anzi questa displacement map su un oggetto è tutto sul prossimo video vediamo come possiamo customizzare la resa in modo tale da eliminare questa simmetria e aggiungere delle asimmetrie specifiche ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti